Buongiorno a tutti, sono Edoardo Berto, ho 33 anni e faccio l'educatore nel mio asilo nido. Questo è un messaggio di solidarietà per Aung San Suu Kyi e tutte le altre persone che con il proprio impegno e l'abnegazione tentano di trasformare questa vita in qualcosa di sensato. Qualche volta, anzi spesso ci riescono. Un abbraccio caloroso a lei e a chi fa di questo in giro nel mondo. Ovunque, ciao a tutti.